pillole di non solo suoni la storia della musica passa da noi prima di andare via spero che balli un po con me sopra la musica ora il tuo corpo si muove può essere l'ultima buona occasione per me di redenzione insieme a te niente distanze ora no tu sei bellissima forse un po troppo per me se avessi solo un attimo cosa cose che ti direi prima di andare via spero che resti un po con me solo un momento sai ora che la notte corre può essere l'ultima buona occasione per me di redenzione insieme a te niente distanze ora no tu sei bellissima forse un po troppo per me se avessi solo un attimo cose che ti direi inizia così una delle canzoni ricantate sul palco dell'ariston la scorsa settimana da una copia composta da noemi e neffa infatti l'avrete riconosciuto il brano si intitola proprio prima di andare via ed è una canzone dello stesso neffa scelta però da noemi per la serata delle cover e dei duetti intanto va detto che un singolo del 2003 quindi relativamente recente è firmato proprio da neffa molto ritmato faceva parte dell'album i molteplici mondi di giovanni il cantante neffa ne era il primo singolo estratto e fu pubblicato il 23 maggio per le radio il 27 giugno sempre del 2003 per la l'uscita nei negozi al momento proprio della pubblicazione andò molto bene visto che si piazzò alla posizione numero 10 tra i brani più ascoltati in italia nel 2008 poi va detto che è stato anche ricantato dai neri per caso sempre insieme a neffa in occasione dell'uscita dell'album angoli diversi è senz'altro una delle canzoni più note di giovanni pellino alias proprio neffa nato nel 1967 un cantautore rapper ma anche produttore discografico italiano che ha affiancato appunto una noemi molto cambiata sul palco dell'ariston lei reduce da una metamorfosi sia interiore che esteriore la cantante infatti non solo ha cambiato approccio alla vita ha ritrovato come ha avuto modo di raccontare un equilibrio interiore ma anche a livello estetico ha cambiato look perdendo molti chili grazie ad una speciale dieta chiamata tra l'altro meta proprio come la sua metamorfosi è un metodo di allenamento di cui ha molto parlato nelle settimane che hanno preceduto la sua performance a sanremo e anche ovviamente l'uscita del nuovo album che si intitola proprio metamorfosi mentre al festival ha gareggiato con glicine tornando alla nostra cover e a neffa lui invece ha ormai diversi anni di gavetta alle spalle e molti successi già incassati lui che esordito invece come batterista in gruppi hardcore negli anni 90 ed è considerato uno dei precursori dell'hip hop in italia uno dei massimi esponenti del rap italiano anche se col tempo poi ha virato genere avvicinandosi decisamente al pop nato in campania in provincia di salerno è cresciuto a bologna sia a livello di infanzia che da un punto di vista artistico e vi risiede tuttora è proprio negli anni 2000 esattamente nel 2001 che avviene la svolta per neffa con la mia signorina singolo di lancio di arrivi e partenze che ha ottenuto un ottimo successo in radio diventando poi il pezzo più richiesto dell'anno oltre ad essere incluso nella raccolta della manifestazione del festival bar del 2001 gli altri singoli estratti da quel disco invece furono sano e salvo e alla fermata l'anno dopo invece produsse l'album turbe giovanili il primo da solista di fabri fibra che spiegò come ne fa un giorno gli avesse telefonato per dirgli che aveva recuperato delle basi dal suo vecchio hard disk nell'estate del 2003 ecco poi neffa che presenta al singolo prima di andare via che diventa subito uno dei principali successi dell'estate risultando poi il più trasmesso dai network radiofonici d'italia e vincendo il premio radiofonico del festival bar che appunto poi come singolo trainò l'album una curiosità prima di salutarci il nome d'arte del cantante è preso da un giocatore originario del paraguai che però militò nella cremonese nei primi anni 90 gustavo neffa appunto